Sempre più affollati i numerosi residents di Rimini in vista della stagione turistica. E proseguono le attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, con questa volta la Guardia di Finanza che dopo lunghi appostamenti ha potuto arrestare un 27enne albanese con l'accusa di spaccio e traffico di droga. Dopo aver preliminarmente accertato che effettivamente il soggetto aveva venduto della sostanza stupefacente a un acquirente, abbiamo eseguito un intervento, abbiamo eseguito una perquisizione all'interno del locale dove abbiamo rinvenuto un bilancino di precisione. Oltre a rinvenire il bilancino di precisione abbiamo trovato le chiavi di una cantina. Questo è stato sicuramente un risultato importante perché ci ha consentito di individuare un locale box posto sempre all'interno del residence dove era custodita un chilo di marijuana, 5 grammi di cocaina e un altro bilancino di precisione. Inoltre nel corso dell'operazione sono state rinvenute due pistole giocattolo a salve modificate mediante l'asportazione del tappo rosso di sicurezza. Ciò ci fa pensare che potrebbero essere state impiegate per compiere altri fatti delittuosi. Inoltre abbiamo anche rinvenuto del materiale da scasso e un passamontagna. Insomma questi residence sempre nell'occhio dell'attenzione, comunque anche in vista dell'estate. Diciamo che in alcune circostanze chiaramente danno spiritualità a persone che poi magari si dedicano a compiere delle attività delittuose. Proprio per questa ragione il nostro controllo è costante.